Anche di fronte alla crisi sul campo, Giuntoli non si ferma e assicura un'altra rinforzo per la Juventus. Juventino, clicca su mi piace e iscriviti per darci ancora più motivazione. Con la cattiva fase della Juventus in campionato, il mercato potrebbe essere la salvezza della squadra, e Giuntoli sembra aver identificato un nuovo talento da portare a Torino. Giuntoli è vicino a convincere il giovane olandese Rud Nista da unirsi alla Juventus. In effetti, il direttore ha già invitato il giovane a visitare le strutture del club. Rud Nistad, così come il suo connazionale di Nwilsen, è anche un difensore, e ha 16 anni. Rud Nistad attualmente gioca nel Tuente, e Giuntoli sta cercando di anticipare la concorrenza per portarlo il più presto possibile, e si prevede che l'affare si chiuda molto presto. Juventino, attiva la campana delle notifiche per essere sempre informato quando pubblichiamo un nuovo video. A presto!